un augurio speciale va a tutte quelle donne che combattono per i loro sogni quelle che ogni giorno si fanno in quattro per la famiglia per i figli un augurio anche a quelle che ogni minuto si scontrano con la realtà e non si abbattono ma l'affrontano sempre con dignità e coraggio un augurio speciale va soprattutto a quelle donne che ogni giorno piangono in silenzio a quelle che maltrattate picchiate e deluse continuano ad amare a credere e a sperare e a quelle che non hanno ancora avuto il coraggio di riprendere la loro vita in mano dico forza e coraggio la vostra volontà può tutto auguri grazie